Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Da lunedì prossimo 8 aprile riprendono i lavori serali di rinnovo dei binari della metro A. Dalla domenica al giovedì l'ultima corsa dei treni sarà alle ore 21, poi il servizio proseguirà su bus. Inoltre per la manutenzione delle scale mobili sempre dall'8 di aprile chiude la stazione Vittorio. In alternativa si potrà utilizzare la vicina fermata di Manzoni. In estate poi per lavori di riqualificazione